superiore sia pure poco affidabile, alternativa adesso è diventato risceria GSM a 5.12 poi è calata anche la quota di Ranger B che adesso è addirittura terza forza in campo a 5.63 ma è il momento della partenza, i cavalli sono già agli ordini dello starter. Grazie mille. Ranger B che cerca il posto in corda che gli viene dato dal race RS che sposta e quindi probabilmente punterà in avanti è il momento più delicato per l'allieva di Luciano Messineo che è chiuso favorito a quota di 2.59 sembra volersela dare a gambe Ratatouille Font che ha preso un buon margine agli avversari e adesso affronta in chiaro vantaggio la retta delle tribune, 500 metri di gara sono stati già percorsi con race RS sulle tracce della capofila Ratatouille Font che raggiunge i primi 600 metri in un bel 44.5 quindi sta tirando via Giuseppe Vitale, race RS si mantiene a distanza poi in terza posizione cerca di farsi sotto anche Richelieu GSM più indietro in quarta viene avanti il Ranger B con Giuseppe Porzio sempre in vantaggio Ratatouille Font è un po' calato il suo gap sugli avversari ma neanche poi di tanto vediamo adesso il passeggio del primo chilometro primo chilometro si viaggia sul filo del 1.15 con il race RS che non dà per la verità l'impressione di essere esplosiva come in altre occasioni probabilmente perché Luciano Messineo vuole evitare di chiederle più di tanto per consentirle di arrivare gradatamente sulla capofila Ratatouille Font dietro race RS c'è sempre in agguato Richelieu GSM che adesso rompe gli indugi e va in terza ruota dunque una terzia allo scurvare in retta con Ratatouille Font che probabilmente ha già dato il meglio di sé race RS passa ma è più incisiva la trottata a largo di Richelieu GSM che mette la testa avanti a race RS e la batte dunque vittoria di Richelieu GSM precipitato infine a quota di 3.92 Cosimo Cangelosi trainer e driver del portacolori della scuderia Cangelosi soltanto seconda la favorita race RS e terzo Ratatouille Font il tempo qualche decimo sotto l'1.15 per il vincitore in numeri 9-1-3 per l'ottava ed ultima corsa ed è tutto da Palermo Grazie mille Grazie.